salve oggi proviamo a fare una riflessione abbastanza particolare perché cercheremo di ripercorrere quelle che sono state le generazioni italiane del novecento quello che differenzia infatti il novecento dai secoli precedenti sta anche nel fatto che se le generazioni del passato ad esempio quelle durante il settecento noi trovavamo generalmente un pensiero comune che un modo di sentire che accomunava non soltanto possiamo dire così una generazione ma un intero secolo un intero secolo era caratterizzato da dei valori da un certo modo di vedere di intendere il mondo e la realtà questo chiaramente lo possiamo rapportare a seconda anche dei diversi sceti sociali ad esempio nel mondo popolare tutto questo almeno fino alla rivoluzione francese e in buona parte anche in seguito la gente si riconosceva sempre negli stessi valori negli stessi ideali non c'era questa frattura generazionale che poi come abbiamo visto si è venuta a sviluppare a partire dalla metà del diciannovesimo secolo e che poi durante il novecento è stata determinante perché se noi andiamo a vedere ad esempio la generazione italiana che è nata tra gli anni venti e gli anni trenta del novecento e la paragoniamo alla generazione che è nata invece dopo la seconda guerra mondiale quindi quella nata tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 50 nonostante ci sia uno scarto molto breve tra queste due generazioni si parla soltanto di una decina di anni poco più eppure c'è un abisso c'è una grande differenza tra chi è nato durante il periodo fascista ad esempio durante il ventennio e invece coloro che sono nati in seguito dopo la fine della seconda guerra mondiale come ad esempio c'è una differenza abissale tra la generazione nata tra la fine degli anni 40 agli inizi degli anni 50 e quella nata agli inizi degli anni 60 ad esempio eppure anche lì c'è uno scarto di dieci anni poco più che cosa è successo nel giro di dieci anni come mai ci sono mentalità così diverse tanto che infatti oggi troviamo persone che sono completamente diverse tra loro non soltanto chiaramente a causa del loro della loro provenienza sociale di tutto quello del passato che ognuno di noi ha alle spalle ovviamente che ci caratterizza e che di conseguenza ci rende diversi ovviamente però anche proprio nel modo di intendere la vita di pensare nelle priorità il novecento è stato anche questo stato un secolo dove le persone non si intendevano più su nulla ma tutto questo avvenuto nel avveniva nel giro di pochissimo tempo se nel settecento come abbiamo visto anche nell'ottocento per buona parte c'erano dei tronconi che caratterizzavano in qualche modo la società dove le persone si riconoscevano e quindi non c'è una grande differenza se andiamo a vedere tra mozart e haydn nonostante fossero nati haydn fosse molto più grande di mozart eppure appartengono allo stesso mondo già tra beethoven invece e mozart c'è una grande un grande divario proprio perché poi in mezzo c'è la rivoluzione francese beethoven nativa praticamente tutto il periodo del primo trentennio dell'ottocento questa disgregazione infatti nel novecento è stata praticamente la pallissiana infatti la prima generazione italiana limitiamoci adesso all'italia non andiamo troppo oltre i confine che già intanto riuscire a vedere anche perché poi questi fenomeni come possiamo vedere si sono tra virgolette manifestati in un paese ma poi possiamo ritrovarli in maniera diversa un po ovunque novecento essendo anche il secolo della globalizzazione anche della società secolare della secolarizzazione e anche dove il mondo cambia gradualmente modernità è caratterizzata anche proprio da questo cambiamento che non si verifica più soltanto in una determinata area del mondo ma riguarda l'intero pianeta quindi per la modo della contestazione giovanile ad esempio di cui abbiamo anche parlato in un altro video non lo ritroviamo solo in italia lo ritroviamo anche in giappone lo ritroviamo in cina lo ritroviamo ovunque è un cambiamento che si mette in atto su scala planetaria e che poi ha delle conseguenze abbastanza paradossali sotto certi aspetti io infatti non è un caso che noi diciamo che la ultima la vera grande generazione italiana ma questo non perché lo diciamo noi ma perché sarebbe andare a vedere appunto i dati anagrafici più grandi intellettuali che l'italia ha avuto nel novecento sono stati quelli nati tra gli anni 20 e gli anni 30 perché era ancora una generazione che nonostante fosse nata sicura durante il fascismo quindi ma non aveva subito completamente l'influenza della dittatura fascista perché poi questa generazione ha cominciato a dare il meglio di sé a partire dagli anni dagli inizi del secondo dopoguerra dagli anni cinquanta in poi quando l'italia andava ricostruita è la generazione da cui è nato fellini è nato basolini è nato ceronetti e le mie zolla leonardo sciascia potremmo continuare all'infinito i nomi che facciamo ogni volta qui quindi anche vediamo dal cinema la letteratura qualsiasi cola filosofia qualunque campo trovavamo infatti anche una generazione che si faceva ancora guidare dalla cultura tra l'altro era una borghesia quella nata tra gli anni 20 e gli anni 30 che purtroppo oggi sta scomparendo proprio per una questione anche anagrafica purtroppo dove la cultura aveva un peso specifico nonostante si vivesse ancora nell'epoca fascista questo ci dovrebbe far riflettere molto però c'era ancora troviamo abbiamo detto ingegneri che legge avevano biblioteche immense avvocati che leggevano a rotta di collo anche magari filosofia o letteratura materie che non erano chiaramente attinenti con il loro mestiere medici che erano appunto dei grandi anche scrittori o studiosi insomma la grande generazione del novecento sotto tanti aspetti quella già nata in seguito quella del secondo dopoguerra è stata una generazione tra virgolette fallita perché è stata l'ultima generazione che ha che ha potuto godere ancora di alcuni privilegi i privilegi che oggi sono impensabili nel nostro tempo privilegi di diversa di diversa natura cioè privilegi appunto quelli che si sono anche un po spartiti l'ultima torre diciamo l'ultima fetta di torta sono riusciti a mangiarsela tutta non vuole essere questa una critica ma come vediamo una un'analisi per quella che per quello che è possibile ovviamente comprendere anche come mai il nostro tempo è caratterizzato anche da questa povertà di contenuti da tutta questa situazione bisogna tornare indietro come sempre andare a vedere da dove tutto ha cominciato ha preso origine perché infatti proprio la generazione del secondo dopoguerra è stata la prima che non si è più fatta tra virgolette non si è più lasciata guidare dalla cultura ma ha preferito seguire percorsi d'altro tipo percorsi in questo caso di natura ideologica e politica però diciamo che era ancora una generazione quella della fine degli anni 40 e gli anni 50 che è riuscita comunque nonostante tutto a dare un contributo alla società anche perché chiaramente era figlia di quella vecchia generazione di quella degli anni 20 anni 30 quindi ha avuto come maestri magari studenti universitari che hanno seguito magari l'università negli anni 60 avevano come maestri i personaggi che quei signori che erano vissuti proprio che erano nati tra gli anni 20 e gli anni 30 chiaramente l'università italiana degli anni 50 o dei primi anni 60 non è minimamente paragonabile con quella che troviamo noi oggi non soltanto proprio per una questione storica ma anche proprio per le figure che oggi sono non esistono più se pensiamo ad esempio che benedetto croce considerato uno dei più grandi filosofi italiani insegnò l'università senza essere mai stato senza avere mai una laurea non era laureato ben croce lo sistema dei casi più celebri anzi eppure nessuno andava lì a dirgli guardi lei non può insegnare perché le manca il certificato sono cose che avrebbero fatto sorridere chiunque proprio perché si andava a guardare la sostanza si guardava il contenuto l'intelligenza la conoscenza di una quello che avevano da dire questi personaggi pensiamo a scrittori che come sappiamo tennero lezioni a volte anche nelle diverse università non soltanto italiane pure anche in questo caso sprovvisti di laurea proprio perché era un'altra accademia era un'altra università chiaramente era un altro mondo poi a partire dal seguito la laurea diventa diciamo così quasi il certificato che quasi il timbro di approvazione la generazione nata infatti già agli inizi degli anni sessanta è una generazione diversa da quella precedente da quella perché diversa perché una generazione che intanto ha vissuto in piano il boom economico il boom economico italiano sappiamo che ha avuto atto tra la praticamente la metà degli anni cinquanta fino praticamente per tutti gli anni sessanta quindi è cresciuta seguendo guardando il mito anche della appunto della televisione guardando il carosello cresciuta quindi nel cosiddetto benessere che si stava gradualmente impadronendo anche delle coscezze italiane ed infatti la generazione possiamo dire dei piccoloporchesi quella dei primi anni sessanta cioè di quelli che poi cresciuti in un'italia democristiana hanno cercato poi in tutti i modi di sistemare i propri figli i propri pargoli i propri parenti i propri scarrafoni in tutti i luoghi della della società praticamente dai vari ministeri nei diverse scuole cominciava fatti proprio negli anni sessanta c'è anche il problema anche di di questa migrazione dal sud italia di tantissime famiglie italiane che cominciano a spostarsi dal sud per andare a cercare lavoro al nord insomma il problema anche della disoccupazione si comincia a parlare per ogni volta di disoccupazione proprio a partire dalla fine degli anni sessanta quando i posti cominciano a essere gradualmente i posti fissi il mito del posto fisso cominciano a essere gradualmente occupati dai amici degli amici degli amici degli amici questo infatti già vediamo il primo sintomo anche di decadenza di un'italia che se nel secondo dopoguerra era riuscita tra virgolette a far prevalere anche una certa qualità pensiamo a fondo anche questo lo vediamo nella letteratura lo abbiamo detto tante volte siamo agli autori che sono nati proprio agli inizi degli anni che hanno cominciato a pubblicare agli inizi degli anni cinquanta anni sessanta che sono come diciamo sempre poi la scuola della letteratura italiana la grande cultura italiana e invece negli anni sessanta troviamo un pubblico che è sempre più attaccato a forme diverse sempre più legato ad una logica di consumo chiaramente non è ancora il consumismo vero e proprio che si padronirà completamente delle coscezze non soltanto italiane ma di tutto il mondo praticamente a partire dagli anni ottanta infatti la generazione degli anni settanta quella nata negli anni settanta e che quindi ha vissuto gli anni ottanta io ritengo che sia stata la prima vera generazione diremmo così quasi completamente perduta perduta per quale motivo perché è una generazione che perché è stata una generazione che non ha vissuto il clima politico ovviamente che dell'ideologia che si respirava tra gli anni sessanta e gli anni settanta se la generazione infatti del secondo dopoguerra era ancora una generazione che voleva tra virgolette cambiare il mondo come sappiamo cambiare il mondo attraverso la politica attraverso una rivendicazione collettiva anche che era anche consapevole sotto certi aspetti anche perché bisogna ricordare che comunque era una generazione che leggeva i libri che amava leggere nonostante tutto certo si leggeva sempre secondo un'ottica ideologica lo abbiamo detto però c'era sempre la volontà di voler cambiare il mondo di voler modificare alcune cose che non funzionavano in maniera a volte poerile in maniera anche un po ipocrita però c'era anche bisogna riconoscerlo altrimenti questa volontà tra virgolette di darsi da fare per quello che poteva essere possibile la generazione degli anni settanta che invece è vissuta e che è cresciuta proprio negli anni ottanta nel periodo reganiano nel periodo delle televisioni mediaset nel periodo dei centri commerciali nell'epoca dell'edonismo universale è una generazione che invece è cresciuta guardando i telefilm e guardando la televisione sono i quarantenni odieni 45 anni cioè quelli che la cultura non sanno neanche cosa sia realmente quelli che l'unico problema nella vita per il posto fisso il posto di lavoro che poi sono stati ultimi praticamente questi signori ad acchiappare il posto fisso perché poi come dire la pacchia è finita oggi sappiamo benissimo i discorsi che si fanno proprio su questo argomento non voglio entrare a parlarne quelli che poi appunto la cultura è rimasta soltanto materia da banco di scuola e basta qualcosa da studiare per prendersi un pezzo di carta infatti sono poi quelli che hanno invaso le università successivamente non per un ospito per volontà di conoscenza per amore verso la conoscenza o per altro o per altre motivazioni ma semplicemente per prendersi una laurea e trovare il posto di lavoro perché quello è stata anche la fine delle università quella è stata proprio la la pietra tombale le università sono diventate la stregua non lo so di un ufficio di collocamento dove uno andava lì cercava si sperava addirittura che il posto te lo trovasse il professore ecco l'accademico ti trovasse il posto quindi vediamo proprio una situazione completamente diversa ribaltata se le università negli anni 50 erano luoghi di cultura tendenzialmente dove si creavano scuole si creava cultura si creava pensiero dove il professore era anche diciamo così un maestro per i propri allievi a partire dagli anni successivi dagli anni 70 80 e poi soprattutto fino ad oggi il professore è diventata quasi una figura sbiadita che sta lì mette il timbro e basta ti dice se sei idoneo o meno se puoi lavorare o no non è più un tuo la figura di una persona che ti sta aiutando ti sprona che ti aiuta che ti segue anche perché ovviamente come possibile come possibile pretendere tutto questo oggi dato che parla di facoltà in base praticamente da chiunque è stato proprio questo anche il miraggio oltre al fatto della stolta competizione tipica degli italiani dove bisogna far vedere chi ha il certificato per vantarsi con gli amici coi parenti mio figlio si è lavorato lì mio figlio si è lavorato là tutto questo ha distrutto completamente la società italiana completamente perché poi come abbiamo detto quando questi luoghi sono stati otturati praticamente sono stati i posti sono stati anche usurpati a volte dei raccomandati la generazione dei raccomandati anche ricordiamocelo la generazione quella cresciuta a pane berlusconi fondamentalmente e al suo vecchio compagno craxi e si arriva chiaramente poi alle generazioni odierne la generazione quella fisca nata tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 non parlo adesso di quella degli anni 2000 perché insomma è come sparare sulla croce rossa chiaramente questo discorso va inteso in un'ottica iperbolica cioè è evidente con i generazione va presa all'interno del suo significato di quello che è stata in senso generico io non amo neanche parlare molto di generazione perché perché non amo il gregarismo che è sottinteso a questo termine alla parola generazione una tendenza che noi italiani abbiamo sempre avuto noi ci piace metterci in scia perché siamo codardi siamo in deboli in molti casi abbiamo paura di andare contro siamo purtroppo i cosiddetti don abbondio i don abbondio quelli che dicono sì da una parte sì dall'altra non abbiamo mai la forza di prendere una posizione questa infatti è una tipica caratteristica che ancora oggi noi abbiamo e che purtroppo a partire soprattutto come abbiamo visto da un determinato momento storico la logica del dissenso è scomparsa oggi italiani non hanno chi dissente oggi è generalmente o il radical chic il figlio di papà che va lì a fare una manifestazione in molti casi per andare contro il politicante per andare contro quello quell'altro ma si vede che non c'è più come magari poteva avvenire 40 50 anni fa come abbiamo detto la generazione del secondo dopo guerra quello spirito di sentire comunque il sentire comune che caratterizzava anche persone molto diverse anche tracetti di sociali diversi però ci si riconosceva in qualche modo in un ideale che poteva essere di natura politica lo ritroviamo tra scrittori tra registi tra diverse figure tutto questo oggi non c'è più perché come abbiamo detto poi la generazione nata tra la fine degli anni 80 e inizi degli anni 90 la generazione quasi una generazione da bruciare potremmo dire così nel senso che non che non ci siano persone di qualità ovviamente tutt'altro ma è una generazione divisa è una generazione frammentaria come non era mai stata una generazione dove tendenzialmente vediamo questi giovani che oggi lavorano nei centri commerciali nei discount ai goal center o che vanno all'estero in molti casi per trovare un lavoro a fare non si sa che cosa troviamo persone molto diverse ecco è difficile parlare di questa generazione difficile parlarne perché proprio perché troviamo un po di tutto proprio perché la società si è a un certo punto a partire dagli anni 90 si è completamente andata a frammentare a disintegrare anche in maniera completa quella odierna una generazione che non ha futuro per il semplice fatto che non esiste più un sentire comune oggi parlare di giovani significa parlare di tutto e di tutto e di niente tutto il contrario di tutto si può dire qualsiasi cosa oltre al fatto che come sappiamo è una categoria esattamente oggi strumentalizzata in una maniera quasi del tutto ignobile io direi questo discorso ritengo che sia fondamentale oggi farlo per riuscire per provare ovviamente a comprendere come il nostro mondo sia cambiato nel corso del novecento come diverse mentalità si siano venute ad incontrare a volte nel corso di pochi anni perché già se noi andiamo a vedere tra gli anni 60 anni 70 c'è un cambiamento enorme che molti non hanno non dico che non hanno colto ovviamente ma non hanno visto forse proprio perché erano hanno vissuto quegli eventi sulla propria pelle e quindi non sono riusciti a vedere il cambiamento storico che è avvenuto in quel momento il secolo delle masse è anche un secolo dove il mondo è cambiato nel giro di pochissimi decenni di pochissimi anni esattamente quello che oggi sta avvenendo noi oggi assistiamo a dei cambiamenti soprattutto a livello tecnologico d'altronde oggi è la tecnica che modifica che cambia anche la il reale noi siamo portati a vedere la realtà attraverso la tecnica non più attraverso quindi il mondo ma è la tecnica che modifica il mondo d'altronde noi purtroppo oggi stiamo andando incontro a dei cambiamenti che non sappiamo gestire per il semplice fatto che siamo completamente immersi all'interno di tutto questo ecco perché è fondamentale come diciamo sempre anche l'azione di chi si tiene un po all'istante dagli eventi di chi non sta al centro della bar al centro della strada perché stare al centro della strada significa non riuscire a vedere come diceva d'altronde pitacora sono proprio gli spettatori che guardano gli atleti nell'arena che si è che fanno l'aco durante la loro maratona sono proprio gli spettatori che hanno una visione migliore rispetto agli atleti che invece correndo non hanno una percezione una percezione corale hanno soltanto la percezione individuale una percezione dell'atleta che corre invece guardare le cose dall'esterno guardare gli eventi dall'esterno ci permette anche di comprenderli meglio di analizzarli con più lucidità senza fare cadere nelle partigianerie che non servono a nulla tirare acqua da una parte all'altra quello che purtroppo ancora oggi sembra una tendenza costante in italia l'unica che troviamo ancora oggi noi siamo divisi in questi pseudo dibattiti che lasciano il tempo che trovano senza mai voler andare a vedere però guarda caso quei cambiamenti che poi oggi sono quelli che hanno modificato completamente non soltanto la società ma anche il modo di pensare delle persone il modo di intendere la vita che oggi infatti quando troviamo tante persone che dicono ad esempio ma come mai gli italiani non sono disposti ad accogliere gli stranieri quando magari in passato lo erano di più ma bisogna vedere proprio perché quegli italiani di 50 60 anni fa non sono più gli italiani di oggi chiaramente è cambiato tutto è cambiato non soltanto proprio perché sono passati 60 anni ma è cambiata proprio una mentalità nuova che è nata che sia migliore o peggiore questo poi sta a noi deciderlo ovviamente quindi vedere i cambiamenti storici andarle ad analizzare purtroppo quello che oggi non viene quasi mai fatto purtroppo perché si tende a studiare la storia con una sequenza di date inutili messe lì senza andare a vedere quello che è successo la storia è un contenitore dove c'è di tutto all'interno c'è la letteratura c'è la politica c'è c'è anche la storia dell'arte c'è una storia del costume c'è tutto se noi vogliamo comprendere realmente che cosa è stato anche il novecento bisogna studiare la storia il tessuto di cui la storia di cui è fatta la storia le persone perché la storia è fatta da esseri umani cosa che oggi noi ci dimentichiamo spesso pensiamo che la storia si faccia da sola la concezione egheliana che purtroppo abbiamo ereditato come se la storia si mettesse in moto come con lo spirito ecco con l'idea dello spirito assoluto che muove gli eventi la storia la facciamo noi siamo noi a fare la storia sono proprio le persone con le loro credenze a volte con le loro scelte che molti casi hanno lasciato il tempo che trovano soprattutto nel novecento come abbiamo visto però una cosa evidente con questa vorrei anche concludere la generazione che ha scelto di ripudiare la cultura cioè che non ha più seguito quindi gli insediamenti anche della cultura è la generazione che poi sotto tanti aspetti ha aperto le porte possiamo dire così anche al divampare di tutta questa confusione che oggi ci caratterizza l'importanza di riprendere in mano i libri che oggi purtroppo è un'azione compiuta che pochissimi compiono non viene svolta quasi più da nessuno sembra quasi inutile ripeterlo l'uomo del novecento è anche un uomo comparsa un uomo comparsa un uomo che non è che è vissuto sempre in balia degli eventi non ha più ricreato non è stato più capace di vivere gli eventi in prima persona è un uomo che è sempre più soggetto a quelli che sono gli eventi storici che non sa prendere più una posizione lo abbiamo detto prima che si fa guidare che si fa comandare esattamente come una generazione che si è fatta comandare tra virgolette dall'ideologia una generazione che si è fatta comandare dal consumismo una generazione che oggi si fa comandare dalla cretineria universale eccetera eccetera e possiamo continuare una generazione che non è stata più capace di prendere in mano le redini della propria vita non per cambiare il mondo in senso politico ideologico nel senso appunto don chisciottesco della parola ma anche con una certa intelligenza di provare a seguire una propria strada quella che in fondo è sempre stata anche una delle azioni dell'uomo di cultura ma io direi anche dell'essere umano un essere umano che si fa guidare sempre d'altro non soltanto rimane un eterno bambino ma anche una persona che non sa più comprendere in che modo va questo mondo e ripete a pappagallo ogni volta la stessa formuletta l'importanza quindi in questo caso di guardare gli eventi di andarli a studiare con una certa attenzione ci permette anche di vedere come diciamo sempre la realtà secondo un'angolatura un pochino più ampia grazie grazie grazie